Ed Warcup Rebels eSpeed Pro, nuova generazione dello sci Warcup con chancrature rimodernate adatto a professionisti o sciatori tecnici, con un raggio di 20,5 metri e 65 mm al centro nella lunghezza di 180 cm. Costruzione con sistema elettronico di riduzione delle vibrazioni di IMC che si abbina alla struttura Warcup con nucleo in legno ampliato con grafene e alla piastra Race Plate VCR14. I sci hanno un profilo camber. I sci impegni a più, devi starci tanto sopra, richiede di abbastanza impegno muscolare, quando ce lo metti fai un medio veramente stabile con lo sci piantato per terra, divertente, appunto per deformarlo io ho fatto tantissima fatica, quindi per sentire la risposta elastica, l'impulso alla seconda parte di curva ho fatto un po' di fatica. Anche nell'ampio tiene, è uno sci comunque strutturato, però a fine curva non sentivo tantissimo la risposta, quindi lo consiglio sicuramente all'ascinatore di alto livello, ma anche con una buona preparazione fisica perché non è facilissimo in questo raggio qua. Uno sci che nasce per le curve medie, in queste condizioni di neve molto dure è uno sci veramente impegnativo, che richiede alte velocità e di una buona prestanza fisica per effettuare appunto l'arco medio. Ho fatto molta fatica nell'arco corto o comunque con curve a bassa velocità perché la struttura è rigida ed è uno sci pesante, quindi lo consiglio sicuramente ai sciatori di un altimo livello, con una buona preparazione fisica, che amino a scoprire tutte le sfaccettature dell'arco medio. È uno sci che ti dà molta sicurezza lungo tutto l'arco di curva, è molto stabile anche su condizioni di neve come quella di oggi, un po' dura. Molto bello su archi ampi e medi, è un po' più difficile da lavorare su archi un po' più corti. Lo consiglierei comunque ad un pubblico di perto. L'ho trovato uno sci molto versatile, sempre su un livello alto, quindi L7, però è uno sci che si adatta molto bene alle condizioni che sono oggi, anche se vorremmo dire un'arco più infermale, più tenera e verso la parte bassa più di gelo, quindi di fine stagione però si adatta molto bene a tutte le condizioni, sia in un'arco medio che in un'arco medio. È uno sci molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, molto stabile sotto i piedi in tutti e tra gli archi di curva. È uno sci che tiene in ogni tipo di velocità, forse leggermente duro, ma questo lo rende molto stabile. Lo consiglio a uno sciatore con una buona preparazione fisica e soprattutto con un buon livello tecnico, quindi un L6 e un L7. Grazie.